Alle 3 di notte viene presentato l'emendamento all'articolo 16 sui fondi per la messa in sicurezza di autostrada dei parchi. I fondi saranno a carico dell'FSC del Ministero dei Trasporti. La parola Abruzzo dunque scompare e vengono salvati 200 milioni per le opere da realizzare in Regione. L'onorevole Stefania Pezzopane del PD la bolla come una grande vittoria per loro e una figuraccia per il Governo. Ringrazio il Ministro Lezzi che ci ha offerto un'interlocuzione di qualità su base documentale guardando gli atti. Ha detto invece il Presidente Vicario della Regione Giovanni Lolli. Hanno riconosciuto l'errore. La questione riguardava come è noto i 200 milioni di euro per la messa in sicurezza delle autostrade a 24 e 25 che il Decreto Genova individuava nelle risorse del masterplan già impegnate. Dai dati si evince invece che dei fondi FSC, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione relativi al masterplan per l'Abruzzo sono state ammesse fino al 31 agosto scorso spese per 536 milioni su una dotazione di 753 sulle quali sono stati registrati impegni pari a 79 milioni di euro. Di contro, degli 11 miliardi e mezzo di fondi FSC di competenza statale, ad oggi gli impegni sono pari a 0 euro. Di qui la conclusione più ovvia e logica che la messa in sicurezza delle autostrade venga sostenuta con questa linea di finanziamento senza togliere risorse di cassa ai programmi della Regione Abruzzo relativi a interventi importanti sul territorio. Il Presidente Vicario della Regione Lolli intanto ha chiesto al Ministro dei Trisporti Danilo Torinelli un incontro urgente per discutere proprio della questione sicurezza delle autostrade. Rinnovo per l'ennesima volta detto l'appello a sederci a un tavolo comune per affrontare seriamente la questione se c'è copertura finanziaria per gli interventi per la sicurezza siamo pronti a fare la nostra parte, ha detto Lolli, ma ci risponda. Le province dell'Aquila e Teramo, ha anche riconosciuto il Presidente, non hanno alternative al trasporto su gomma. Chiudere le autostrade sarebbe un danno irreversibile, non è più possibile assistere a questa gazzarra mediatica sulle autostrade. Ci facciano sapere cosa intendano fare. La sicurezza è al primo posto, ma dopo la sicurezza c'è il fatto che una parte decisiva della nostra economia viaggia proprio su quelle autostrade.